Manca poco e il 2 gennaio inizieranno in Sicilia i saldi invernali che si concluderanno il 15 marzo. L'isola anticipa di qualche giorno l'avvio dei saldi a livello nazionale, dove gli sconti scatteranno invece dal 5 gennaio. L'avvio dei saldi farà bene al commercio e ai consumatori, dice l'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio. La misura che abbiamo condiviso in accordo con le associazioni che rappresentano i piccoli commercianti ha infatti proprio lo scopo di dare linfa vitale ai negozianti che potranno incassare liquidità fondamentale per la loro sopravvivenza e fornire occasioni di acquisto migliori per gli utenti. Ma le previsioni non descrivono una partenza sprint. Secondo i dati dell'osservatorio nazionale Feder Consumatori infatti solo il 24 per cento delle famiglie italiane comprerà qualcosa con una spesa media per famiglia di 178,60 euro in calo del 3 per cento rispetto ai saldi dell'anno scorso. In Sicilia probabilmente queste cifre saranno ancora inferiori visto il potere d'acquisto dei siciliani notevolmente sotto la media nazionale italiana. Complici anche il caro bollette l'inflazione generale da una parte e di altre iniziative commerciali come il Black Friday dall'altra in questo periodo di soldi in tasca ne restano ben pochi per 2 milioni di famiglie siciliane. Feder Consumatori Sicilia inoltre si chiede se hanno ancora senso i saldi tradizionali in un'epoca in cui tutto è costantemente in saldo online e non solo. Com'è possibile, recite il comunicato, che uno smartphone oggi costi 1000 euro al lancio e 600 euro dopo appena tre mesi o che una televisione passi da 1999 euro a 799 in meno di un anno? Cosa ancora più assurda è la differenza di prezzo spesso applicata dalle grandi catene dell'elettronica in base alla modalità di acquisto online offline con prodotti uguali che cambiano di prezzo fra il punto vendita fisico e il negozio online. Stesso prodotto, stesso venditore, prezzo dimezzato se si compra online. Ma non tutti vogliono o riescono a comprare online e questa differenza di prezzo così estrema rischia di trasformarsi in una vera e propria discriminazione nel confronto di chi non mastica molto di digitali acquisti online. Feder Consumatori rivendica il diritto delle persone a sapere quanto costa realmente un prodotto in un'era in cui Amazon ha ormai rivoluzionato l'equilibrio del mercato mondiale con inevitabili conseguenze anche nel commercio locale.